musica io sono il migliore di tutti capito? no ahahahahah ahahahahah capua continui, continui sono il migliore ti rendi conto di essere un coglione vero? ogni tanto te lo rendi conto di essere un coglione no ma io ve lo chiedo perché ogni tanto sai mi sveglio con la mattina e dico porca troia barlo è un coglione è una tipica proprio prima cosa dei pokemon scoperti come pokemon da regione e poi bing barlo è proprio un coglione ma i pokemon vanno da regione in regione o c'è sono ammuzzo perchè sono i pokemon anche da 100 diverso si sei ubriato il coglione un problema vabbè uno ciao cosa? mi piace il coglione mi piace il coglione mi piace il personaggio nuovo sono il migliore mi piace il personaggio nuovo il cocaine nuovo sono il migliore come tutti quei rapper di milano e questo cosa è molto felice regresso ma fammi cominciare felice regresso felice regresso felice regresso felice regresso magari a cristo ma ti prego ti prego sono stato all'estero sono stato all'estero si a galera stato c'era qualcuno che dicevano sono stato all'estero c'era un tizio che si chiama il signor aggnatica adesso questo questo lo racconto che è dato una premium la vedete in pochi c'era il signor aggnatica aggnatica e il tizio che faceva tipo le truffe in stazione viaggiava con sta no 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 questo tizio è proprio 80 anni fa e viaggiava con sta valigia di merda no? si perchè se noi fai quelle pubblicità e praticamente questo tizio a un certo punto sparisce per sei mesi si può dire che si si che è successo e mi hanno sgamato che facevo le truffe con i passaporti il tipo rimane lì perchè ovviamente non si può muovere perchè appena esce lo fanno e mi raccontava le cose tipo sta voce a citofono che le donne tu le devi prendere qua le devi mordere qua la zecca vabbio le tieni e poi le dicono scopami scopami cos'era pazzo merda aveva ragione aveva assolutamente ragione lui ragazzi signor aggnatica se non sei morto e sei ancora in giro a truffare la gente e a mordere sul collo le ragazze io ti prego ti prego ti prego un follower ma come un follower lo voglio qui sono il migliore shang andale andale cinesi che parla in messicano 16.332 visualizzazioni shang però la gente muta se è cinese quindi shang andale andale quindi lui è cinese e parla in spagnolo produzione more music amore di settembre il tempo delle more ma come sei romantico signor aggnatica andale andale wow la cava da touch belli i colori rust ha buttato il jack perchè sa che è un rosaletto nuovo è bravo disagio wow che boss sembra amato del blocco molto bello luiz voltini altissimo wow ballon drop mamma giuro che stavolta spacco prego e dammi solo e stavolta spacco non voglio tornare a star perchè il mio socio ti insegna da prendere sempre di petto la vita ho allontanato le merde frate non stavo sui banchi di come marra e non so che inventarmi ah 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 non buttare a whisky invece è interessante quello che dice l'ambientazione del video è bellissima adesso dice che ha scherzato aspetta c'è un quarto d'ora di finale e vediamo cosa fa bene ah ok ha il drop si poi c'erano delle belle immagini ma scusa un po' ma ha già un etichetta sto ragazzo sai che non lo so con il suo sacco di controlliamo eh il video c'è no non ho un etichetta penso che sia la gente che ha lavorato il video e tutto il resto ragazzi ha investito un botto di soldi in questa roba quindi ha fatto bene perchè almeno ha investito in quello che fa che mi piace la produzione è molto bella il pezzo mi ricorda tanto Vegas Jones beh però almeno è Conscious solo che da Vegas mi aspetto delle cose un po' più visto che comunque è già lì si è già fatto conoscere per quello che è chiamo il tipo di mia mamma penso che era Gesù mi piglio un po' male invece lui nel suo viaggio Conscious ha anche detto un sacco di cose interessanti il tipo è forte non c'è niente da invidiare ai prodotti alti no ma infatti è un filone che in questo momento ha un esubero di esponenti in questo momento lui tra i vari può crearsi la sua nicchia di pubblico di seguaci il video è molto bello il pezzo è Conscious per me un gusto mio personale non mi piace il genere il mood però di gente che mi dice mamma quest'anno te lo prometto ce l'ha sentito da tutti va bene l'hai detto anche tu va bene si vede che avete lo stesso sogno tutti quanti magari cercatevi un sogno un po' più vostro beh ma io se però il pezzo è figo e questo era proprio per trovare la dire mia madre quando avevo vent'anni invece di fare merda le avessi promesso di fare qualcosa di figo adesso era ancora qualche aspettato eh certo tua mamma da 15 anni meno male che non glielo ho promesso infatti da me non mantengo le promesse hai visto mamma non l'ho fatto però come dicevi il prodotto è un prodottone ma proprio bello il prodotto in totale eh tutto il pacchetto del prodotto è purtroppo questa roba del rapper generico che non può spiccare perché c'è esponente in base ci sono degli esponenti molto più in alto di lui non più bravi perché in realtà non ha niente a chi invidare ma si ma infatti è quello metti questo metti il Vegas Jones metti Sphere e basta metti un'altra cosa è uguale manca qualcosa di nuovo di qualcosa di fresco e non vuol dire pitturarsi la faccia a qualcosa di nuovo no no infatti capito? no perché così è bello allora veramente cioè se io avessi visto è bello ma è uguale allora è come dire mi ascolto un gruppo punk me ne ascolto 10 sono tutti uguali ok però lì c'hai la cultura che vuoi conoscere più gruppi possibili perché ogni gruppo mette qualcosa di suo se non mettete niente di vostro che siete tutti uguali è quella la grande differenza mi dite la trappa è il nuovo punk no manca la scintilla manca quello che dice minchia è il migliore di tutti eh o minchia lo fa meglio di quello eh perché la base è simile flow è simile il mood non la base il mood è flessibile il mood è simile i testi sono simili eh si sei capace anche tu a farlo e lo fai bene secondo me se un ragazzo lo deve ascoltare può ascoltarsi oh no ma va benissimo quel filone questa roba è fine no no è fatto bene il prodotto è fatto bene il prodotto è fatto bene il prodotto è fatto bene niente da dire non porta niente di nuovo alla wave dai diciamo così facciamo per parlare in termini giovani e secondo me tu avresti le palle di trovarla se mi dici sono capace a farlo anch'io ti dico sì l'hai fatto pure bene sì ma eh hai capito quello comunque qua sotto c'è il link andatemi a vedere il no il ragazzo ci sta dentro se vi piace seguitelo perché secondo me può tirare fuori cose nuove e fighe sì infatti mi raccomando appena fai qualcosa di stra figo me lo fai sapere bravo shang anche bel nome shang shang mi dò uno schiaffafale ma perché che fastidio ciao 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 ciao